Assessore Lagalla, lei qui si sente a casa sua dal punto di vista emozionale, un ritorno in famiglia, il tempio dell'istruzione. Beh, non è mai mancato il fil rouge con la mia università, con la università di questa città, che ho avuto il privilegio di servire dal rettore, ma anche di poter continuare a tenere connessa con le istituzioni regionali attraverso la funzione di regolazione del sistema di istruzione che è propria dell'assessorato che in questo momento dirigo. È comunque un bel colpo d'occhio vedere qui tutto il mondo dell'istruzione, della formazione scolastica e universitaria, oltre che professionale, riunito per questo momento di verifica, che ci serve a fare il punto e un primo bilancio sulle cose fatte, ma a riorientare le scelte per il prossimo futuro, in particolare in vista del PNRR.